signori e signori, sigla signori e signori, sigla signori e signori signori e signori, buonasera questa sera faccio il mio solito sproloquio da solo perché Mario Caio ci ha abbandonato, non so se verrà ma purtroppo stasera ha detto che non sarebbe stato presente tutto avremmo immaginato il nostro tg facebook ma mai di arrivare all'amico Vincenzo Tamburi sindaco di San Basile nonché consigliere provinciale, noi stasera siamo onorati di averlo qui con noi è il settimo ottavo sindaco che viene questo ci fa immensamente piacere anche perché lui viene da una comunità piccola San Basile un po' come Mongrassano con grandi tradizioni alberci ovviamente e con lui stasera parleremo di quello che sta succedendo un po' in alberia e di quello che succede nella provincia di Cosenza che come Vincenzo sa benissimo è una delle più grandi d'Italia mi pare che sia la seconda quindi ne avremmo di cose da dire almeno territorialmente parlato. Vincenzo si è offerto è venuto qui con tantissimi impegni che ha stasera altro dopo di noi, noi lo ringraziamo a questo punto tg facebook buon partito. Allora caro Vincenzo che te ne pare di questa astronave dove ti trovi stasera? Fantastica, guarda Roberto ti ringrazio mi hai fatto veramente un onore per invitarmi e per farmi venire qui a Mongrassano anzi dovevo venire prima ora che ho vissuto questa bella esperienza anche solo nel conoscervi e vedere questo bell'ambiente qui in radio sembra un bunker questo studio un bel bunker dove stare, vivere confrontarsi insieme perché fa bene là ti sto filmando per youtube poi andrai anche su youtube eventualmente non hai facebook chi non ce l'ha ti vede là oppure adesso ci sta già ascoltando su www.radiantena2000.com che poi dovrai mettere nel tuo computer comune e mi ascolti Giovanni sicuramente la metterò subito in filo di diffusione tutti i dipendenti mi dovranno dire poi a fine giornata